Catalana. Hai capito adesso? Vai tranquillo. Guardo a te, ultima possibilità, vitamine. Cosa mi dici se ti dico B1? Ah, colpito. Sì, e B12? Affondato. Fuori! Grazie a tutti. Che cantante, presentatrice, in cui sarà adesso tu il farmacista. Poi alzi, non agressa. Ho un vuoto dentro. Cosa mi consiglia? Una supposta. Vedo che sei preparata. Allora, tu che sei farmacista, cosa consigli di assumere a un pubblico che ha del malumore? Allora, vi consiglio una grandissima dose di Valentina Pezzia!